dagli stessi produttori di massaggiatori di magazzinieri e di venditori di panini zozzoni allo stadio è in arrivo un nuovo reality che vi inchioderà al divano vivono ai margini dello showbiz dimenticati da tutti nessuno l'intervista mai ma senza il loro contributo la domenica le partite non inizierebbero perché loro sono autisti di pullman il primo reality dedicato agli autisti dei pullman che portano i giocatori allo stadio in 20 interviste gli autisti dei pullman della serie a si raccontano i loro sogni le loro aspirazioni come sono diventati autisti di serie a abbiamo scoperto che ogni domenica l'autista della juve prima di arrivare allo stadio coi giocatori fa il giro largo e passa da lourdes autisti di pullman uno spaccato nell'affascinante ma difficile mondo degli autisti le tristi storie di saverio parodi l'autista della samp che da tre anni ogni maledetta domenica è costretto a sorbirsi cassano che canta avanti a te ci sono io e di rolando gonzalez l'autista argentino dell'inter finito nei guai per aver dimenticato apposta quaresma in un autogrill autisti di pullman perché il mondo del calcio non è sempre rose e fiori è un'esclusiva sky